sì alessia un grande risultato una grande impresa una vittoria pesantissima sì abbiamo dato l'anima e alla fine siamo riusciti a portare a casa i tre punti che alla fine sono il nostro obiettivo di ogni gara da qui alla fine ma è normale che farlo con un avversario così forte vale vale di più a livello di morale sicuramente senti una considerazione a livello personale perché su questi tre punti ci sono anche le tue mani raccontaci questo rigore che hai parato a girelli niente semplicemente mi sono preparata e sono spinto al massimo poi quando prendi l'angolo mister martino dice sempre se becchi l'angolo la devi prendere quindi l'ho presa siamo riusciti a portare a casa i tre punti diamo continuità al risultato un'altra grande impresa come accaduta a firenze al franchi è questo lo spirito giusto per ottenere la salvezza quello che è il nostro obiettivo assolutamente è questo lo spirito e dobbiamo andare avanti così unite compatte e dando sempre il massimo lo facciamo in allenamento tutta la settimana e i risultati piano piano si stanno vedendo questa è anche una vittoria di gruppo di tutte quante perché davvero lavoriamo tanto e adesso finalmente siamo avendo qualche grande soddisfazione come oggi come la scorsa partita ovviamente arriva a verona che è una partita ancora più fondamentale e quindi rimaniamo concentrati e andiamo avanti a fare come stiamo facendo quindi sempre lavorando focalizzate e col sorriso anche per una delle belle prestazioni che ci stiamo portando a casa l'ultima cosa che cosa aggiunge in termini di crescita di consapevolezza di entusiasmo una giornata come oggi una partita come oggi aggiunge tanto a tutte a livello di bagaglio personale sicuramente ogni gioia che ci regaliamo ci rende più forti e a maggior ragione farlo con la prima in classifica vale vale di più e sono tutte esperienze che ci porteremo indietro perché la partita di oggi principalmente ci dà consapevolezza per affrontare a testa alta e con coraggio le prossime partite